Partiamo dall'Ariete. Splendida creatività al lavoro, l'originalità griffa ogni iniziativa. Sotto la vostra direzione anche la questione più banale acquista spessore. Toro, quanta energia, il merito va tutto alle stelle. Pensiero e azione lavorano in team. Contro di voi solo la famiglia che disapprova alcune vostre scelte, se non tutte. Gemelli, la famiglia è dalla vostra parte, pronta a incoraggiarvi a darvi fiducia, poco importa se all'interno della famiglia stessa non corre buon sangue. Rapporti sereni con l'ambiente. Dopo un chiarimento la vita di coppia invece ne esce addolcita. Cancro, la giornata di oggi promuove sport, sbaghi e socialità. Prevista anche un'entrata extra da spendere come più vi piace. In programma un acquisto importante. Leone, al centro della scena a qualsiasi costo. Se i creativi siete voi, vi meritate l'applauso. I problemi iniziano se il consenso lo rubate a qualcun altro. Questo gioco vi diverte, ma occhio a non esagerare. Vergine, atmosfera stranamente rilassata, non sembra neanche lunedì. Al lavoro sfoggiate le vostre doti migliori, elasticità mentale e apertura verso gli altri. Chi è in difficoltà sa di poter contare su di voi però. Bilancia, gli astri da qualche settimana hanno deciso di strafare, regalandovi promesse d'amore, divertimento e creatività. Peccato che oggi ci saranno complicazioni con gli amici. Non si può avere tutto. Scorpione, giornata fastidiosa anche se senza grosse complicazioni. Le stelle di oggi creano un sottile disagio nelle relazioni. Una convinzione errata maturata nel passato condiziona il presente. Sagittario, imbarba a chi vuol darvi del filo da torcere, dribblando le complicazioni di un affare, lo mandate in porto e probabilmente ne raccoglierete i frutti prima del previsto. Capricorno, bene esaminare nei dettagli la vostra attività e rivedere i progetti da avviare, focalizzando eventuali modifiche e possibili miglioramenti. Anche voi avete bisogno dei vostri spazi? Ritagliateveli! Acquario, le stelle vi sommergono di amore, bellezza e fantasia. Peccato che ci saranno anche delle insicurezze che vi faranno vedere rivali anche se non ce ne sono. Successo artistico e creativo. Pesci, quando si tratta di organizzarsi e produrre, vi dimostrate intuitivi e disponibili. Per ottenere il massimo da voi bisogna sapervi prendere. Se la creatività perde colpi, preferite attività di routine che vi costringano a mantenere un ritmo. Grazie per la visione!